Buongiorno, benvenuti. Possiamo iniziare con questa prima lezione del pomeriggio. Do il benvenuto a Diego Fusaro e a tutti voi. Lezione dedicata al capitale di Marx che costituisce una delle matrici storiche e testuali fondamentali per uno dei percorsi tematici che, come avrete notato, è tra i più significativi all'interno dell'intero programma del festival. Cioè la questione complessiva del farsi cosa, che è evidentemente già al cuore del nostro tema per il 2012. Il farsi cosa che nella declinazione marxiana, che è all'origine anche di molte prospettive attuali, significa reificazione. In modo radicale anche reificazione degli individui che diventano merci, anche per effetto di forme di sfruttamento. Avrete sentito, qualcuno di voi forse avrà ieri ascoltato la lezione di Carlo Galli, che ha proprio discusso questo tema nella sua attualità contemporanea. Ebbene oggi, con la lettura, l'analisi del capitale di Marx, possiamo andare a verificare una delle fonti di questo tipo di tematiche. Reificazione ed anche uno dei temi che è al cuore del discorso marxiano, uno dei capitoli più significativi in cui questo insieme di questioni viene articolato, è quello che discute il carattere di feticcio della merce. Feticcio, feticismo, un'altra delle piste che il nostro programma cerca di mettere in evidenza, convocando varie discipline, dalla filosofia politica all'antropologia. E anche qui l'opera di Marx indubbiamente rappresenta un punto di riferimento, un crocevia assolutamente indispensabile. Nell'opera di Marx stessa si può dire il tema del feticismo era bifronte, perché da un lato in esso si condensava la cultura filosofica di Marx e l'insieme delle fonti a lui precedenti. Certamente la dottrina idealistica, la questione geliana del rapporto soggetto-oggetto, ma anche tutte quelle storie naturali della religione illuministiche che Marx ben conosceva e in cui il tema del feticcio, la categoria stessa di feticcio e di feticismo come elemento della storia comparata della natura umana era stata elaborata. Quindi bifronte perché da un lato fonti del passato e dall'altra anche una dottrina che è stata una delle principali eredità intellettuali che Marx ha lasciato alla interpretazione del marxismo critico. Benjamin e la scuola di Francoforte hanno fortemente studiato proprio la questione del feticismo perché in esso emergeva l'incontro tra produzione e consumo, si destrutturava anche per certi versi la relazione tra struttura e sovrastruttura, veniva in luce la dimensione ideologica e anche simbolica che è in gioco quando appunto si analizza il potere della merce sui consumatori e sugli individui. Quindi siamo davvero dentro un prisma fondamentale per comprendere il significato storico e la rilevanza attuale della questione delle cose. E anche un'occasione importante di tornare a leggere Marx con Marx, in qualche modo disincrostando il testo di Marx dalla ruggine che certe ideologie gli hanno posato sopra fin quasi a renderlo veramente illeggibile. Questo è un compito importante che Diego Fusaro sta svolgendo nelle sue pubblicazioni perché è giunto evidentemente il momento di recuperare le opere di Marx, di restituirle alla storia della filosofia, al pensiero politico, anche certamente all'immaginazione sociale e di rimetterlo al centro della rilevanza di tutta una serie di questioni anche per il pensiero contemporaneo. Diego Fusaro insegna storia della filosofia e storia delle idee alla Università Vita Salute San Raffaele di Milano, ha curato molti scritti della tradizione materialistica e atomistica greca, quegli stessi su cui lo stesso Marx aveva lavorato a lungo come sue fonti filosofiche e si è occupato sia di Marx, della tradizione marxista, che anche della filosofia della storia, delle categorie, della temporalità nel pensiero novecentesco, dedicando per esempio un lavoro a Reinhard Koselleck. Ricordo il suo libro Bentornato Marx, rinascita di un pensiero rivoluzionario, che è proprio il lavoro in cui ha messo a punto la sua rilettura del pensiero marxiano nel suo complesso, e più di recente Minima Mercatalia, filosofia e capitalismo, un'altra occasione di elaborazione dei rapporti tra filosofia, pensiero economico e società capitalistica. È, direi, il più giovane dei relatori che mai abbiano tenuto una lezione al Festival Filosofia. E questo, al di là di questa circostanza, per certi versi anche potremmo dire contingente, vorrei dire però che è un segnale che noi dell'organizzazione accogliamo con grande piacere, anche come segnale che il sistema della ricerca italiana, che le risorse intellettuali che, diciamo così, la comunità dello studio italiano può mettere a disposizione, esistono. E sarebbe, come dire, è auspicabile che questo patrimonio, questo capitale intellettuale, di cui l'Italia dispone, possa essere messo a frutto e a sistema, e non disperso e dilapidato, come purtroppo talvolta si teme che possa accadere. Adesso lasciamo la parola al nostro relatore. Grazie. Ebbene, ancora Marx. Il suo spettro continua a ossessionarci, continua ad aggirarsi per l'Europa e per il mondo, tormentandoci e non lasciandoci pace. Quanto più pensiamo di esserci disfatti di Marx, di averlo relegato nel dimenticatoio della storia, tanto più le sue indagini, la sua forza critica, il suo smascheramento delle contraddizioni del capitalismo, la realtà di cui continuiamo a essere abitatori, benché non si dica più il suo nome, si fanno pressanti. Quindi quanto più cerchiamo di liberarci di Marx, tanto più torna a farsi sentire. Marx come uno spettro, dunque, lo spettro ossessionante. E questo è il modo in cui, abitualmente, continuiamo a rapportarci con Marx. Uno spettro che deve essere continuamente esorcizzato. Se fate attenzione, sempre il dibattito pubblico si articola nella forma di una presa d'atto di un decesso. Marx è morto, ce ne siamo liberati, non serve più, sono finiti i tempi in cui c'era Marx. Ebbene, mi ha convinzione che questo modo di rapportarsi al pensiero di Marx sia un esorcismo. Quanto più si dice che Marx è morto, tanto più lo si dice per metterlo a morte. Dietro l'apparente riscontro di un decesso, la morte di Marx, si nasconde in realtà un auspicio, un esorcismo, una messa a morte. Cioè il modo in cui si esorcizza la presenza del più irriducibile nemico della società capitalistica. Marx deve essere quindi continuamente liquidato. Bisogna liberarsi di lui. Io penso anzi che chi si ostina a ripetere in nome di Dio o del mercato che Marx è morto lo faccia in realtà per metterlo a morte. E' in questi termini che oggi si struttura il nostro rapporto con il filosofo di Treviri. Se fate caso, è interessante il fatto che unico caso dell'intera tradizione occidentale, unico caso del canone filosofico, Marx è un autore rispetto al quale non ci si pone mai in maniera avalutativa, asettica. Il discorso intorno a Marx si articola sempre nella forma del bilancio critico. Dove aveva ragione Marx? Dove aveva torto? Fino a che punto può essere oggi utilizzato? Subito, immediatamente, quando si parla di Marx si formano i due opposti poli degli esaltatori, magari nostalgici, e dei demonizzatori che lo vorrebbero fare fuori. E appunto Marx quanto più viene rimosso, tanto più è presente. Tanto più le sue indagini oggi ci appaiono irrinunciabili, inconfessabilmente irrinunciabili per venire a capo della realtà capitalistica. Il cosmo a morfologia capitalistica è ancora il nostro mondo, è l'humus in cui siamo costretti a vivere. E le contraddizioni che Marx aveva auroralmente decriptato alle origini del capitalismo, nel momento, potremmo dire, trionfale del capitalismo, continuano a ossessionarci. Prima fra tutte, l'idea fondamentale del pensiero di Marx è essere il capitalismo una contraddizione in movimento. Ogni cosa, oggi ben più che ai tempi di Marx, sembra recare al proprio interno una contraddizione. L'immane potenza delle macchine che potrebbe liberare il lavoro umano piega l'uomo al lavoro fino a ucciderlo di fatica. La scienza che viene continuamente evolvendosi in pari tempo viene negata a una parte dell'umanità. I prodotti della produzione che potenzialmente potrebbero già soddisfare i bisogni di tutti vengono continuamente sottratti nello stesso movimento con cui vengono prodotti a una parte dell'umanità costretta a vivere nella miseria e dunque ad alimentare la macchina della produzione capitalistica. Ogni cosa dunque oggi, non meno che ai tempi di Marx, reca in sé il proprio opposto. Ogni cosa dunque ci chiama continuamente a Marx e al capitale. Marx dunque come una coscienza infelice che deve essere riattivata. Marx è la coscienza infelice interna al capitalismo, la coscienza infelice della borghesia che coglie il movimento contraddittorio del capitalismo. Borghesia e capitalismo non coincidono, non c'è mai stata coincidenza fra queste due determinazioni, come se la borghesia fosse semplicemente l'autista che guida il treno chiamato capitalismo. La borghesia è una classe dialettica, è una classe che cerca l'emancipazione universale in quanto figlia dell'illuminismo e al tempo stesso coglie l'impossibilità di una genesi reale di questa emancipazione contraddetta dal capitalismo stesso. La borghesia dunque è come classe dialettica e contraddittoria che per un verso legittima il mondo del capitale come mondo che la vede dominante in quanto classe egemonica, la borghesia che ideologicamente in termini marxiani santifica il modo della produzione capitalistica, ma la borghesia è anche coscienza infelice di un'emancipazione tradita dal capitalismo stesso. La borghesia vorrebbe l'emancipazione universale e il capitalismo genera il proprio opposto. Asservimento, alienazione, sfruttamento, colonialismo e così via. Marx dunque come coscienza infelice della borghesia che ha accompagnato larga parte della modernità. Solo in questi termini del resto si spiega e si può dare una risposta a quella splendida domanda che il filosofo Hans Bloch anche lui a suo modo allievo eterodosso di Karl Marx poneva nella sua opera principale Il principio speranza. Che cosa ha spinto alla bandiera rossa quelli che non ne avevano bisogno? appunto la coscienza infelice di un'emancipazione di un universale mancato la ricerca di una ulteriorità nobilitante rispetto a ciò che siamo attualmente nel capitalismo ed è questa coscienza infelice che insieme a Marx insieme al suo spettro vorrebbe essere bandita nell'epoca della fine della storia sazia e felice che non può accettare ogni promessa di un mondo a venire. dicevo che Marx viene continuamente liquidato esorcizzato ma c'è un altro modo in cui viene presentato oggi quando non si è dichiarato morto è la forma potremmo dire anestetizzata Marx come semplice profeta della globalizzazione Marx come semplice teorico dell'estinzione dello Stato che è anche come è ben noto il sogno del pensiero neoliberale la fine dello Stato in modo che dominino gli automatismi dell'economia Marx cioè quando non si è immediatamente dichiarato morto inservibile viene anestetizzato viene presentato come ha scritto Slavoj Zizek in forma decaffeinata privato cioè della sua espressività politica di tipo anticapitalistico della sua vis anticapitalistica e appunto in questo modo ancora una volta Marx viene messo a morte privato di ciò che lo caratterizza grazie a tutti